se la lascerà in che senso, magari lascerà quel posto, lo potete intendere anche in maniera molto più stratta, se lascerà il posto di lavoro, se lascerà la casa in cui vive con i genitori, quindi per venire a convivere con voi, se lascerà la moglie, se lascerà l'amante, se lascerà la sorella, l'amico, fate voi. Noi andiamo semplicemente a chiedere se questa persona va a lasciare l'altra. Quindi prendetevi tutto il tempo necessario per capire a chi volete pensare qual è la situazione, stoppate il video se necessario, io direi di accantonare un attimo due delle varianti, facciamo così, accantoniamo la variante verde e andiamo ad accantonare la variante rossa, mettiamo qui di lato, e andiamo a vedere un po' partendo dalla variante blu se questa persona lascerà l'altra persona. Innanzitutto cosa abbiamo? Sicuramente c'è un clima di discordia, di discussione, non vanno molto d'accordo e in questo momento è come se uno dei due si fosse stancato. Queste discussioni sono state ridimensionate, quello che prima sembrava insormontabile, adesso invece sembra proprio lontano ogni luce, anzi. Queste situazioni vengono, adesso osservate, questi momenti di litigio, anche con una sorta di buon'aria, così, aria di superiorità, come a voler dire, ma come ho potuto perdere tempo. Vediamo un pochino in che senso. Beh, sicuramente non è stato facile. Prima di giungere a questa presa di coscienza, che molto probabilmente fa pensare che per questa prima variante la risposta è sì, che la persona a cui state pensando lascerà la situazione in cui si trova. Per arrivare a questa presa di coscienza c'è stato tanto lavoro, tanta solitudine e tanta sofferenza. Comunque questo dover fare una separazione tra quel che era, quel che è stato, quel che sarà, sentire questo confine netto, il sapere che andarsene vuol dire lasciare per sempre quello che si ha alle spalle. Qui non c'è niente che si può portare con sé, non c'è niente che può essere recuperato. Qui se si decide di andare via, si va via per sempre. E diciamo che questa idea, inizialmente, aveva un po' immobilizzato la persona a cui state pensando. Aveva comunque mandato questa persona in un momento di crisi, di blocco, di non sapere quale decisione prendere. Per come se all'improvviso qualcosa che cercheremo di capire deve essere accaduto, un elemento in più nella storia, un messaggio, una comunicazione, però è come se dopo tanto riflettere, la persona a cui state pensando avesse recuperato la sua autorità, l'autorità che lui, lei ha su se stessa, su se stesso, e salita nuovamente sul trono della propria individualità e della propria vita, finalmente fosse riuscita a deliberare su un possibile comportamento da adottare. Qui abbiamo una persona che ha recuperato la sua forza e la sua autorità e che sta mandando un messaggero. Molto spesso il messaggero appunto porta a una comunicazione importante e probabilmente se non è stata lei direttamente avrà mandato qualcun altro a risolvere questa situazione che lo aveva comunque bloccato. E infatti la situazione va a finire in malo modo, c'è una chiusura. Una chiusura che porta a quella famosa distruzione di cui parlavamo prima che una volta che si chiude e si va via non si può salvare nulla. Qui non c'è nulla risolvabile, nulla che possiamo portare con noi, quello che adesso crolla, crolla per sempre. E comunque non è una chiusura che avviene nel migliore dei modi. Per quanto questa persona sia distaccata, l'altra persona che riceverà la notizia avrà un bel dire. Avrà di che dire, avrà di che lamentarsi e lo farà in maniera anche molto molto coreografica e molto molto forte anche a livello acustico. Però la decisione è presa. La decisione è di andare, di prendere, di partire, di recuperare la propria individualità, non solo la propria libertà. E la possibilità anche di esplorare nuove mete. Soprattutto di seguire un bisogno interiore. Qui il dovere andare via è un volere andare via. Ora non sappiamo se questo andare via vuol dire che verrà da voi, perché l'interattivo non nasce con questa domanda, né si pone questo secondo interrogativo. La domanda è semplicemente, lui, lei, lasceranno l'altra persona? Per questa prima variante la risposta è affermativa. Confermata la torre e la morte, chiusura totale. Il discorso finisce. Si arresta qui. Non c'è niente risalvabile. Tutto alla malora. Probabilmente anche tutto il passato verrà, ahimè, revisionato. Cioè l'idea che ciascuno di loro due avrà sul loro passato condiviso assieme sarà poi diversa, non più concordante. E quindi confermiamo, confermiamo, confermiamo il fatto che la coppia è in crisi. Qualcosa deve essere accaduto per cui uno dei due ha iniziato poi a non trovarsi più bene e di conseguenza questo malessere si è trasmesso in tutte e due. Ci sono stati momenti di litigio, momenti di incomprensione, però era come se qualcuno subisse la forza, la coercizione dell'altro. E mentre prima c'era questo stare fermi, questo attendere, a prescindere, convinti che qualcosa di salvabile ancora fosse lì nella relazione, all'improvviso abbiamo detto qualcosa è capitato per cui, tornando sul proprio trono, recuperando il proprio ruolo, la persona a cui pensate ha capito che poteva finalmente prendere e andare via. C'è stato tanto lavoro, tanto pensiero, tanto riflettere, è passato molto tempo, non è stato un prendere e andarsene semplicemente così, all'improvviso nel momento in cui dentro di sé oramai l'idea di non stare più bene in questa coppia era evidente, aveva ormai messo radice. Ecco, non è che il cambiamento è arrivato automatico, veloce e in maniera molto semplice, c'è stato tanto, tanto, tanto mettersi in dubbio e tanto, tanto riflettere. E questa carta mi si può ricollegare, secondo me si può ricollegare molto a questa. Sia a livello iconografico che di percezione che arriva a me, si è cercato di capire cosa fosse ancora valido o quanto di valido ancora ci fosse, fino a giungere poi alla conclusione di quasi quasi, prendo e vado via, ma in serenità, ormai la questione l'ho elaborata, anche il rischio della discussione l'ho messo in conto, sono pronto, sono rinato, ho recuperato forza, autorità, indipendenza, il mio ruolo, mi sono messo nuovamente in piedi, mi sono sollevato da quella situazione di inerzia che non portava a nulla se non a momenti peggiori di quelli già vissuti, ho recuperato il buon umore, vedo nuovamente un futuro all'orizzonte, ho voglia di ricominciare, ho voglia di rimettermi in gioco, quindi sento di poter ripartire. Certo, a volte resta ancora un pochino così lo sguardo rivolto al passato, e quindi questa persona a volte si domanda, starò facendo la cosa giusta? Siamo umani, siamo fatti di carne ed ossa, siamo fallibili, c'è margine di errore, e poi comunque la mente è ripetitiva e funziona per pensieri associativi, quindi lasciare la via vecchia per la nuova, come si suol dire, ci apre alla possibilità del rischio e dell'inconveniente, anche del fallimento. Però è interiormente che si è radicata la convinzione di potercela finalmente fare. Si brucia tutto quello che non serve più, non ci si carica, non ci si appesantisce con bagagli inutili che non potremo comunque portare con noi perché non ci serviranno. La storia è finita, bruciata, chiusa, cestinata. Ci poniamo in ascolto di nuovi segnali, ci poniamo anche in ascolto, anzi, ci mettiamo lì ad osservare l'immagine che di noi ancora non abbiamo, del nostro futuro. Dobbiamo trovare il coraggio, e ce ne vuole di forza, per far saltare fuori dal pelo dell'acqua una balena. C'è un animale molto, molto grosso, un fardello molto, molto pesante. Dobbiamo avere il coraggio di saper osservare col cielo, il futuro, la speranza, compiendo quel balzo che ci richiede grande sforzo, per poi ripiombare nella situazione di prima, ma aver guardato comunque per un attimo il cielo. Ma soprattutto dobbiamo avere anche la forza di iniziare a costruire la nostra nuova immagine. Perché al momento siamo solamente una possibilità, o meglio, al momento siamo tutte le possibilità. Ma per poter riuscire dobbiamo cominciare anche a concretizzare una specifica possibilità. Dobbiamo stare attenti ai momenti di sbalzo di umore. Quindi questa persona potrebbe rischiare a volte di aver paura di aver sbagliato, la famosa carta dei sospiri di prima. Sebbene per orgoglio non tornerà indietro, per non soffrire però deve cercare di coltivare il buon umore. O meglio, deve cercare di coltivare l'amicizia. Qui bisogna riuscire a, nel mentre ci si svincola da una storia, quindi non correre il rischio di fare chiodo scaccia chiodo, uscire da una storia per entrare in un'altra storia d'amore. Per questa prima variante il consiglio che le carte ci danno è pensare a sé e cominciare a ricostruire una nuova immagine di sé. Frequentare sì, ma con testi piacevoli, soprattutto di amicizia. Comunque rimettersi in gioco, esporsi, essere visibili. Quindi non nascondersi assolutamente. Questa immagine che di noi dobbiamo costruire deve essere comunque un'icona. Cioè, è come se fosse il assunto di tutto quello che abbiamo vissuto. È come se, nel nostro modo di apparire e di fare, noi ponessimo le basi solide per quello che poi sarà il nostro futuro. E quelle basi, comunque, sono l'esito tanto di un lavoro spirituale, intellettuale, di un qualcosa che comunque viene dalla nostra sfera razionale, sì, ma anche intuitiva. Cioè, di tutto ciò che è astratto dentro di noi. Ma anche proprio della concretezza, della carnalità, della fisicità. La statua che comunque è fatta di pietra. La pietra che comunque ha qualcosa di solido. La statua della libertà che ci richiama comunque il desiderio di libertà per l'appunto. Ma non è una libertà a nascondimento. È una libertà evidente. Cioè, noi ci ributtiamo in pista. È una libertà che ci pone di nuovo dinanzi agli occhi di tutti. Possiamo scegliere, ma diventiamo a nostra volta la possibilità della scelta di qualcuno. Si era interrotto il video perché il cellulare aveva oramai ceduto con la batteria. Eccoci di nuovo. Dicevamo quindi che per quanto riguarda questa prima variante, e ora andiamo a vedere l'ultimo arcano, sì, questa persona lascerà l'altra e si rimetterà in pista. Tornerà disponibile. E ce lo conferma anche l'ultimo arcano. Comunque abbiamo la ruota. Movimento. Non rimane in una situazione di stallo assolutamente. Quindi la situazione di partenza comunque verrà accantonata, verrà lasciata alle spalle. Bene, questo è quanto per la prima variante, per la variante blu. Ora andiamo a vedere la seconda variante. Se riusciamo a togliere le carte. Andiamo a vedere la variante rossa. Cosa abbiamo per la variante rossa? Allora, eccoci qua. Abbiamo una persona in questo caso radicata nel suo mondo di fantasia, però è anche rinchiusa tra le quattro pareti del suo mondo di fantasia, dove si racconta tante storie. Qui c'è una persona che non sta comunque bene. Ma sta a guardare anche lo sguardo di questo personaggio. Nonostante sia circondato da giocattoli. Comunque la cosa che dovrebbero garantire alla sua attenzione momenti anche di felicità, di gioia, di fantasia, di creatività. Qui è come se il giocattoli guardassero lui. È come se questi pupazzi lo osservassero per capire che cos'è che sta pensando, che cos'è che vuole fare. Questa è una situazione che non piace più, dalla quale ci si vorrebbe liberare, ma dalla quale non ci si sa liberare perché poi profondamente non ci si vuole liberare. C'è comunque una dipendenza. C'è tanta inerzia in questa situazione. Ci si lascia trasportare dagli eventi, ma il problema è che quegli eventi, se noi non li andiamo a condizionare, ripeteranno le stesse dinamiche. Per potersi liberare è necessario comunque compiere quantomeno un passo. È necessario andare ad interferire con il contesto, con il sistema. Ma se si resta lì seduti o sdraiati e ci si lascia trasportare, non si ha nessun merito per quanto riguarda quello che ci accadrà, ma in fondo non ci si assume neanche nessuna responsabilità. Si subisce quello che già è o quello che è stato. In questo caso, per potersi liberare, è necessario, se lo si desidera, scendere veramente in battaglia. Cioè, fare un atto di sopraffazione di forza. Questo è un personaggio che va a colpire gli altri per prendere quello che vuole. Vogliamo la libertà? Ce la dobbiamo andare a prendere? Questo ci dice la carta. Vogliamo cambiare la nostra condizione? Dobbiamo avere il coraggio di chiudere tutto, anche in malo modo. Dobbiamo avere anche il coraggio di entrare in guerra contro l'altra persona con la quale non vogliamo più condividere i nostri giorni e il nostro tempo. E invece però, per quanto riguarda questa seconda variante, è come se la persona a cui state pensando avesse oramai accettato quasi predestinazione il ruolo di, che ne so, in questo caso abbiamo una papessa, cioè questo ruolo che lui deve recitare, in cui deve dimostrare di essere una persona seria, una persona pacata, che non si può concedere cambiamenti, divertimenti, che ha sui giochi, però nonostante abbia rotti quei giochi lui non si diverte perché non sta bene divertirsi, non sta bene fare cose strane, non sta bene fare cose imprevedibili, è destinato ad essere sempre così serio, lui dà i consigli, a lui ci si rivolge per i pareri, ha questa responsabilità paterna, deve stare lì e dimostrare chissà che, ma tanto poi non sta bene in questa condizione. E infatti è un sacrificio sia volontario, ma è un sacrificio che poi in fondo è una costizione. In questa seconda variante, per il momento, per quello che mi viene qui, non viene lasciato proprio nessuno. Questo contesto è una prigione che alla fine è amata, perché dà comunque sicurezza, ha una zona di comfort, con tutti i limiti che ha, una zona che comunque piace, perché rischiare vorrebbe dire mettersi in gioco. Ed è anche una questione molto lunga, anche con questa carta della temperanza, qui non c'è nessun movimento, nessun cambiamento a breve. Il vincolo resta, l'appeso sta qui, il passo non viene compiuto, il sistema non viene, non si va ad interferire con questo sistema. Quelle che sono i propri desideri, le proprie volontà, le proprie aspettative, vengono vissute in segreto, nessuno deve capire, l'apparenza in questo caso inganna, le altre persone non devono capire, perché non riuscirebbero a capire, quindi gli altri sono sì, nemici, sono comunque persone con le quali non si può condividere la volontà magari di cambiare, totalmente la propria vita, e si decide ancora allora di continuare a recitare la vita che si è sempre fatta. Vi confermo che qui non c'è nessun cambiamento a breve. anzi, questo clima pesante che poi alla fine non è desiderato, ma è voluto per qualche strana dipendenza affettiva, o a meno che c'è una dipendenza economica, ma dalle carte che vedo io è proprio una questione interiore, la situazione non si smuove. Questa situazione rimarrà così per molto tempo e non è neanche fonte di felicità, di appagamento. Eh no, non c'è niente, non c'è nulla da salvare. Magari qui nella coppia non c'è neanche sentimento, non si fa più il letto, non si fa niente, non ci si parla, ma non riesco ad andarmene. Come quei cani fedeli, ai quali dai tante botte che non si fa mai con un animale, ci mancherebbe, però quante volte capita che c'è il padrone che è picchiarantissimo il suo cane, il suo cane nonostante tutto torna, torna dal padrone e non abbaia neanche contro il padrone. Ma si farebbe ammazzare per il proprio padrone. Ecco, è una dipendenza malata. Ora, non tanto quella del cane ovviamente, ma quella che ha questa persona. Ecco perché parliamo di dipendenza comunque affettiva. Questo darsi nonostante tutto, questo volerà essere un oggetto di desiderio. Molto probabilmente questa persona non lascia quel contesto perché vorrebbe essere desiderato in quel contesto. Magari in quel contesto nessuno solo fila e se andasse via alla fine neanche lì opporrebbero grande resistenza, ma è un fallimento. Per lui è un totale fallimento e comunque è come andare ad avvalorare, scusatemi, quella percezione che ha di sé di inferiorità rispetto agli altri. Non c'è autostima in questa persona ed ecco perché questa fortissima dipendenza. Comunque è una persona che soffre tantissimo e anche questo contesto lo fa soffrire. Cioè soffrirebbe ad uscirne, soffre nello stare in questa situazione. È una persona che sta passando un periodo bruttissimo ma il problema è che non può uscirne fuori perché è lei stessa che si sta chiudendo in questa situazione. La scelta l'ha fatta lei di incamminarsi in questa direzione. La vita gli ha dato arcano gli amanti la possibilità di scegliere andarsi di iniziare un nuovo cammino di incamminarsi verso una nuova meta invece no lei questa persona ha voluto riprendere la strada di casa nonostante tutto fosse chiuso questa strada portasse ad un tramonto ad una chiusura alla fine di una strada qui c'è una strada chiusa dove c'è una casa c'è la vecchiaia sembra quasi una nonna con un nipote che cammina all'orizzonte è come se vedesse la fine della sua vita tutto va a esaurirsi in questa dinamica in questa relazione eppure io mi incammino lo stesso in questa direzione anche se non è quello che voglio è chiuso il discorso questa è una persona che non vede possibilità di cambiamento di libertà alfa e omega ci siamo chiusi dall'inizio alla fine non c'è altro mi dispiace perché in realtà questa è una variante con energia molto molto pesante non c'è altro di fuori di quello che si sta vivendo di questo perimetro che tutto abbraccia ogni aspetto della propria esistenza uscire fuori da questa zona di comfort come l'abbiamo definita prima non è voluto e qui ci si passa veramente l'eternità e che poi anche un ruotare intorno sempre alla stessa sempre la stessa idea sempre questo ritornare della stessa dinamica dello stesso meccanismo questo rimanere fermi immobili io non credo che per questa seconda variante ci saranno cambiamenti abbiamo la luna abbiamo la malinconia abbiamo comunque la sofferenza la sofferenza abbiamo questo rimpianto questo rammarico questo avere comunque lo sguardo basso questa testa inclinata questo subire un qualcosa che viene vissuto come inevitabile il problema più grande di questa seconda variante è che si è ormai radicata nella persona in cui state pensando l'idea che i giochi sono chiusi che non ci sia possibilità di ricominciare che non ci sia possibilità di cambiamento e in realtà la cosa ancora più brutta è che questa persona pensa che sia giusto quello che sta vivendo è come se nonostante appaia come una punizione questa punizione questa persona la meriti e quindi indirettamente ci si sta sabotando da soli e non si potrà procedere né smuoversi da questa situazione fin quando la razionalità e il desiderio di cambiare non andranno verso la stessa direzione qui abbiamo un cavallo che va a destra l'altro che va a sinistra il carro comunque non può procedere non so cosa possa essere accaduto a questa persona e che tipo di contesto di situazione stia vivendo io penso io penso comunque una relazione finita dalla quale però non ci si stacca però posso dirvi una cosa dalle carte a me non viene che il vincolo sia dall'altra parte non è tenuto a catena dal coniuge dal partner o chiunque esso sia la catena al collo se l'è messa lui qui è proprio una visione del mondo ingannevole che però è stata accolta come l'unica visione del mondo possibile è una condanna che viene vissuta come il proprio destino ma è una condanna che ci si è autoinflitti perché di per sé qui siamo partiti da una condizione in cui in fondo si ha tutto per stare bene ma ci si nega quel benessere non lo so io aspetto che voi mi facciate sapere qualcosa su questa seconda variante perché ovviamente poi voi siete migliaia ognuno conoscerà una persona diversa però questa è una persona che sta tanto male interiormente se non ha iniziato un percorso anche psicologico comunque di un percorso interiore anche spirituale forse è una persona che avrebbe bisogno di parlare con qualcuno comunque di aprirsi perché per come sta in questo momento è bloccatissima quindi non solo qui non si lascia nessuno ma qui proprio non si vive non lo so andiamo alla terza variante vediamo un po' la variante numero 3 o meglio la variante verde allora qui in realtà c'è un clima molto piacevole si sta bene abbiamo una persona pagata molto felice sta raccogliendo in questo momento della sua vita i frutti di tanto lavoro una persona soddisfatta che sa di stare bene la cosa più bella perché ha coscienza della sua felicità e che sente che non ha bisogno di nulla qui per questa terza variante paradossale nella prima c'è il cambiamento nella seconda c'è nella prima la persona viene lasciata nella seconda non c'è nessun cambiamento quindi nessuno viene lasciato qui paradossalmente è come se non si cercasse nessuno è come se qui la persona da lasciare fosse stata già lasciata ma non si tendesse ad andare verso nessuno qui si vuole stare con se stessi perché si sta benissimo con se stessi e nel caso invece ci fosse ancora la coppia si sta benissimo in questa coppia c'è una bellissima intimità c'è un clima di gioia di gioco anche buonariamente infantile ci sono tanti sogni tanti desideri in comune c'è tanta voglia di costruire assieme e c'è anche tanta voglia di affrontare il futuro e anche il rischio del futuro assieme per questa terza variante iniziamo con delle energie molto belle non è stato facile però aggiungere a questo clima di armonia e condivisione molto probabilmente questa coppia ha affrontato un momento davvero brutto 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 forse voi avete avuto notizia di questa situazione ed ecco perché state chiedendo se si sono lasciati o se si lasceranno però vi dico una cosa è che questo momento brutto è stato superato alla grande è stato sì è alle spalle l'ostacolo è alle spalle la coppia ha resistito ed è uscita rafforzata da questo momento bruttissimo quel fuoco che ha divampato e ha rischiato di bruciare tutto si è trasformato solo in luce che ha rischiarato e in calore qui si è raggiunti a un momento veramente di incomunicabilità che è stato superato la grande cioè qui non si è solo recuperato quello che c'era prima di buono ma si è costruito già del nuovo ognuno ha il suo posto ognuno ha recuperato il proprio ruolo ognuno è forte è come se si fossero entrambi rafforzati individualmente per creare una coppia ancora più forte nello stare insieme qui non c'è nessun desiderio di lasciare nessuno non c'è nessun desiderio di cambiamento qui si è felici in questa terza variante e questa felicità questa armonia è stata raggiunta anche a discapito di tanta libertà personale potrebbe anche darsi che per questa terza variante la persona a cui state pensando sia un vostro ex un amante o qualcuno che vi aveva fatto delle promesse dicendovi che a casa non andava bene poi l'improvviso è sparito non vi ha dato che notizie voi vi chiedete perché ecco lui è libertino nel suo cuore e oltre ad essere libertino probabilmente veramente interessato ad altre persone provando dei sentimenti ma adesso si sta contenendo perché perché ha capito che in realtà quello che ha a casa sua è comunque molto molto importante probabilmente il rischio dell'implosione di questa coppia questa carta qui si è palesato all'orizzonte di questa situazione proprio per un comportamento della persona a cui state pensando però lui si è pentito e tornato indietro vorrebbe addirittura aver confessato tutto e questo ha portato di nuovo l'altra persona a fidarsi di lui si vede che la confessione è stata veramente sincera e questo momento di crisi è andato in realtà a rafforzare questa coppia se non ci fosse stato questo momento di crisi forse la coppia con il tempo avrebbe aumentato le distanze per forza di inerzia eh sì qui abbiamo l'intervento c'è stata l'entrata in questa coppia di un'altra persona c'è stata la storia parallela lui avrebbe potuto non dire niente perché a casa sua nessuno aveva capito nulla è lui che ha cominciato ad avere una forte crisi interiore probabilmente ha cominciato a pensare ma se io faccio così e se lo fa pure lei ha cominciato a soffrire anche dell'idea che l'altra persona potesse staccarsi da lui perché lui non gli dava più attenzione e questa paura l'ho fatto tornare sui propri passi e infatti lui ha confessato qui c'è stato il chiarimento c'è stato il parlare e non è stato un litigare non è stato un prendersi a parolacce probabilmente a monte il partner ha addirittura apprezzato perché probabilmente aveva accettato questo compagno con il carattere un po' così libertino però magari lo aveva accettato anche con un certo grado di sofferenza e di rammarico invece questa confessione arrivata all'improvviso piovuta dal cielo e sincera ha toccato veramente il cuore dell'altra persona che molto probabilmente da tempo stava aspettando un riavvicinamento che molto probabilmente aveva accettato sì che questo uomo sparisse non condividesse più tutte le sue passioni con lei non parlasse più come un tempo però aveva avuto la materna lungimiranza di continuare ad amarlo e lasciarlo libero di fare perché poi è vero se ami veramente devi lasciare la persona libera perché se va via e non torna non è l'amore almeno da parte di quella persona e che te ne fai di una persona che sta con te per interesse e non per amore qui c'è stato un discorso di coppia di grande profondità è una bellissima variante poi magari mi dispiace perché voi state lì a sperare che questa persona abbia lasciato l'altra ma qui in realtà c'è stato il recupero totale anche le cose brutte sono state superate assieme cioè almeno in questo momento in questo specifico momento questa coppia sta funzionando ed è più affiatata di prima nonostante il periodo di sofferenze e soprattutto qui molto probabilmente vediamo anche le altre carte che seguono è come se lui avesse colto l'ultimo treno fosse salito sull'ultimo treno a sua disposizione per recuperare un rapporto che in realtà veramente aveva toccato il fondo con il rischio di chiudersi per sempre perché questo momento brutto è stato veramente brutto e se non è finita qui è proprio perché questa persona ha preferito soffrire in silenzio anche quando era sola il letto era vuoto piuttosto che mandare tutto all'aria cioè è stata la sua forte fede in questo rapporto che ha fatto sì che il rischio fosse alla fine e alla lunga girato e diventasse in realtà il punto di forza di questa coppia perché qui abbiamo una donna molto forte io non so chi sia questa imperatrice è comunque una donna di valore magari potrebbe non piacervi come persona perché nel vostro caso potrebbe essere l'altra l'ostacolo però va detto una cosa qui abbiamo comunque una persona che merita quello che ha è una persona che nella vita si è impegnata per ottenere quello che ha non ha tolto nulla a nessuno e di indole non è una persona che si approfitta degli altri assolutamente lo scontro è stato molto molto forte forse per carattere se non fosse stato per l'amore che prova per il compagno lei avrebbe in altri tempi lasciato morire la cosa nel senso non affrontando lo scontro ma portando le estreme conseguenze però io sento molto forte in questa terza variante una grande connessione di questa donna perché secondo me è una donna con la propria intuizione ha saputo ha saputo galleggiare nonostante la tempesta ha saputo non lasciarsi trascinare a fondo ha saputo non lasciarsi condizionare anche da un contesto che così letto in maniera letterale senza andare dietro le dinamiche a fondo di le stesse dinamiche avrebbe dovuto portare a tutta altra situazione cioè quello scontro avrebbe dovuto portare proprio all'implosione del rapporto e all'esplosione della coppia invece ha saputo mantenere la calma e infatti è riuscita vittoriosa cioè con la famosa bandierina sulla luna la conquista lei è riuscita a ripiazzare nuovamente la bandierina sul suo uomo cioè questa è terra mia questa è proprietà mia nel senso buono del termine proprietà questo è il mio uomo questo è quello che io voglio quello per cui ho lottato quello per cui ho sperato anche nei momenti così di di sconforto io mi sto riprendendo quello che è mio ed è una persona che si è impegnata tantissimo quindi in questa terza variante io vedo semplicemente che si è tornati all'armonia qui due punti di vista sono nuovamente conciliati tra loro vanno nella stessa direzione mantenendo le proprie peculiarità non è che l'uno va a sovrastare l'altro o va a confondere l'altro o va a inibire l'altro qui c'è stato il rischio della separazione del fatto che lui la lasciasse o anche che lei lasciasse lui però paradossalmente questo momento molto difficile e brutto per questa coppia per probabilmente destino karma quello che a loro toccava poi affrontare la prova superata questo aver saputo trasformare le energie e aver saputo trasformare in un punto di forza quello che poteva sembrare un iniziale ostacolo qui la crisi si è risolta si è risolta ma talmente bene che in realtà non solo si è recuperato lo continuo a dire quello che c'era prima che era di valore ma in realtà è diventato ancora più di valore qui è come se il vino fosse diventato ancora invecchiando più buono e quindi mi dispiace perché per questa terza variante qui lui non la lascia però va detto pure un fatto se state leggendo questo interattivo come se voi foste la donna a casa è beate voi cioè qui siete riusciti a fare un miracolo perché questo interattivo lo potete leggere tanto come io sto aspettando chissà se lui lascia lei o lei lascia lui oppure io sono la persona che potrebbe essere lasciata in questo momento lui la lascia cioè lui mi lascia ecco per questa terza variante diciamo che per chi è la moglie la virgoletta è la compagna ufficiale il risponso è bellissimo vabbè vi aspetto poi i vostri commenti questo è quanto per la domanda che abbiamo posto questa sera alle carte io vi ringrazio e ci sentiamo presto grazie a tutti